Sindaco Maurizio Brucchi, novità fresche, possiamo dire, sulla Tari? Sì, insomma, ora a prescindere da quello che dice C.G.A. Di Mestre, che secondo me, per quanto riguarda il comitato, ha preso un abbaglio, ma su questo risponderemo nei prossimi giorni. Invece, ieri abbiamo fatto un'attività per verificare se di fatto quello che abbiamo annunciato, quando abbiamo provato il PEF, poi avesse il giusto riscontro. E quindi, bollette alla mano, siamo andati a fare una serie di verifiche su quelle che saranno le bollette che stanno arrivando in questi giorni, nelle case dei cittadini terramani. Voglio dire una cosa, le bollette che stanno arrivando in questi giorni, la scadenza è lunedì, però abbiamo scritto una bolletta che c'è la possibilità di pagare, diciamo, ulteriori dieci giorni di tempo, per cui non ci saranno sanzioni, non ci sarà mora per altri dieci giorni. Alcuni esempi, opifici, industria e capannoni, 3.550 metri, nell'anno 2013 pagavano 17.605, quest'anno pagheranno 13.731, meno 22%. Casa di 390 metri quadrati con quattro persone, prima pagava 785 euro, adesso paga 6,29, meno 19,96. E così anche i ristoranti, meno 16,62. Quindi, come vedete, quello che avevamo detto lo stiamo portando avanti. Poi assistiamo, ma non è che lo dico perché, diciamo, mi faccia piacere, in comuni, tipo Giulianova, tipo anche Pescara, dove gli aumenti sono dell'oltre 200%, ma io l'avevo detto anche quando abbiamo fatto gli incontri con Commercio, con Fesercenti, il Comune di Teramo da diversi anni ha applicato quello che diceva la legge, cioè ha applicato la TIA, tutto quello che si spende per i rifiuti si ripartisce per i cittadini. Altri comuni hanno pensato di fare i furbi, tra virgolette, cioè hanno applicato TAR su provventi. Adesso però, nel momento in cui invece il governo ha detto stop e si passa tutti al regime di TIA, in questo caso di Tari, ecco che gli aumenti sono del 260%, del 200% e ci sono le manifestazioni dei commercianti e così via. Noi invece abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo condiviso un percorso con Commercio, con Artigianato, con Confesercenti e questi sono i risultati.